Tra qualche mese a Gela anche il rione tra Fondo Iozze e Punte Vigne avrà il suo centro di aggregazione sportiva. Si tratta di un vecchio progetto PON con fondi europei, il cui iter sarà a breve concluso e grazie al quale potrà essere consegnata una struttura tensostatica polivalente. A portare avanti il procedimento l'amministrazione comunale con il primo cittadino, l'assessore alle opere pubbliche Nuccio Di Paola e l'assessore allo sport Pietro Lorefice. Questa mattina è stato presentato il progetto. Questi ultimi mesi abbiamo fatto le gare per poi evitare che si perdessero dei fondi che possono dare delle risposte alla collettività, soprattutto in alcune zone che negli anni sono state poco attenzionate, come questo quartiere che verrà riqualificato con una struttura polifunzionale dove sarà possibile fare diverse attività sportive. Assessore, quanto costerà la struttura? Il PON è un PON sicurezza, l'importo era di circa 500.000 euro, poi naturalmente c'è stato il ribasso da parte dell'azienda e sarà fruibile naturalmente a tutte quelle associazioni sportive che vorranno fare le proprie attività all'interno della struttura. La struttura è stata progettata dall'architetto Saverio Palumbo. Che tipo di struttura state realizzando? Intanto è un campo polivalente composto da due corpi di fabbrica, quello principale è formato da una struttura in legno lamellare coperta da un telo in PVC abbastanza leggero, poi ci sarà un blocco servizi spogliatoi realizzato in una struttura comunque tradizionale. L'intento comunque è quello di rendere quanto più possibile creare più aggregazioni all'interno di questo quartiere e quindi tra l'altro è un lotto di terreno di proprietà comunale che attualmente è completamente degradato quindi il progetto sostanzialmente andrebbe a riqualificare un'area non utilizzata. Che tipo di attività si possono svolgere all'interno della struttura e quali saranno i tempi di realizzazione? I tempi intanto lo realizzeremo, riusciremo a realizzarlo si spera entro sei mesi, ci saranno diverse segnature all'interno del campo quindi si potrà esercitare il basket, il pallavolo, il calcetto ma anche molto probabilmente l'ok sul rotello.